Grazie Presidente. Dunque, noi siamo cresciuti in questa regione con l'idea che smettere di studiare prima volesse dire trovare prima un lavoro, uscire di casa, avere uno stipendio, costruirsi una famiglia. Questa storia, questo meccanismo è uno dei tanti che sono stati scompaginati durante gli anni della crisi perché questa crisi che ha ridotto il numero di posti di lavoro soprattutto a bassa qualifica ha fatto sì che oggi smettere di studiare prima significhi spesso non lavorare proprio. Noi abbiamo un problema e avremo un problema su tutta una fetta di persone, penso soprattutto giovani, che sono quel 13% di ragazzi che abbandona la scuola, quel 18% di ragazzi che non studia e non lavora in Lombardia e quel numero 29% di persone tra i 30 e i 34 anni che hanno una laurea che è molto più basso rispetto alla media europea, più alto rispetto ad altre regioni, soprattutto del sud, ma molto più basso rispetto a quel 36% che invece i paesi europei segnano. Questo per dire che dietro alle nostre richieste che formuliamo da tempo nell'investire di più nel diritto allo studio universitario e non solo ci sta questa idea qui, cioè l'idea che in un mondo sempre più competitivo e sempre più interconnesso ai nostri giovani debba arrivare l'impulso a studiare, a formarsi, ad investire nel proprio capitale umano per accrescere, ognuno con la propria vocazione, la ricchezza della nostra regione. Non è la prima volta che chiediamo risorse in più per il diritto allo studio e se lo facciamo devo dire, e anche perché da parte di Regione Lombardia l'investimento è davvero scarso. Io ho qui i dati relativi al 2015-2016, sull'università, su 54 milioni di risorse stanziate sul diritto allo studio universitario, 15 milioni sono il Fondo Integrativo Statale, 38 milioni sono la tassa regionale che pagano gli studenti stessi e soltanto 687 mila euro sono le risorse proprie della regione, sono briciole. E sarebbero bastati solo 2 milioni per far sì che tutti gli studenti che hanno diritto, che hanno i requisiti di merito e di reddito e che ne hanno fatto richiesta potessero ottenere la borsa di studio. Cosa che invece non è stata raggiunta. Anche quest'anno si è ripetuto lo scandalo degli idonei non beneficiari, di quei ragazzi che hanno diritto alla borsa di studio ma non la prendono perché non ci sono abbastanza risorse stanziate. Questa è la prima cosa che chiediamo e di sanare questa vicenda. Noi però non ci accontentiamo perché per quello che dicevo all'inizio noi abbiamo il dovere di aumentare quel numero, aumentare il numero di ragazzi che ne fanno richiesta e che decidono di intraprendere un percorso universitario. E per farlo serve anche investire di più nel diritto allo studio universitario. Perché dietro a quelle persone che fanno richiesta spesso ci sta una famiglia che fa fatica, che magari ha uno o tutti e due genitori che sono in una situazione di difficoltà lavorativa. Ci stanno magari famiglie che non hanno a loro interno due genitori laureati e magari il figlio invece è il primo della famiglia che riesce a sperimentare e a sperimentarsi dentro un percorso universitario. Io vi chiedo veramente di ragionare non tanto di numeri, di emendamenti, ma delle persone che stanno dietro questi numeri. Perché se vogliamo investire nella competitività, nella qualità del lavoro e ce lo diciamo spesso in quest'aula, si parte dalla formazione. Si parte dalla formazione, si parte dalla formazione. Per questo io vi chiedo di valutare con attenzione gli emendamenti 92-93 che abbiamo presentato a questo proposito e l'ordine del giorno 25-951 che con questo intervento sono andato a presentare. Credo che sia davvero una priorità per la nostra regione alzare quel numero e provare a farlo a partire da oggi. L'altro emendamento e ordine del giorno che presento riguarda invece il tema della montagna. Anche qui non è la prima volta che intervengo su questo tema. Noi qui siamo ad un bivio. Abbiamo nell'ambito del riordino istituzionale in corso una situazione di favore che viene destinata a tutti quei territori che rientrano dentro i confini di una provincia interamente montana. è il caso di Sondri oggi, il caso di Verbano Cusiossolo, Belluno, ma sarà il caso anche di futuri cantoni che avranno a loro interno tutte aree interamente montane e che verranno sostenute con finanziamenti adeguati. Tutte le altre aree montane che stanno fuori quei confini ma su cui insistono però gli stessi problemi e le stesse criticità restano al palo. E noi in Lombardia abbiamo tutta una fascia di valli che restano dentro province a maggioranza diciamo città pianura e che rischiano di morire se da una parte si identificherà come montagna e come finanziamenti prioritari quella montagna appunto inserita in confini interamente montani e si lascerà fuori quell'altra. Per questo noi chiediamo che ci sia una fonte di finanziamento stabile individuata nei canoni regionali del demanio idrico per sostenere quegli interventi indispensabili perché qualcuno decida di rimanere a vivere e a lavorare in montagna. Altrimenti non ci resterà nessuno e io vi invito ad avere una sensibilità particolare per questi territori perché non si possono trattare territori così diversi la montagna e la città alla stessa maniera con le stesse regole. Se dovessi usare una metafora calcistica di fronte al fatto che Milano ha 1.200.000 abitanti inseriti in 181 km2 di territorio, la Valle Seriana ha 150.000 abitanti, poco più del 10% per 460 km2. Dicevo se dovessi usare una metafora direi che usare le stesse regole per questi due territori sarebbe come far giocare una squadra a 5 su un campo a 11, non vincerà mai, è evidente che non vincerà mai, non hai numeri per poter vincere, ma se voi la fate giocare su un campo a 5 potrà invece far emergere quelle che sono le sue qualità. A ogni territorio ha la sua vocazione, ogni territorio ha bisogno di regole diverse e io credo che tra la montagna e la città ci sia un bisogno vitale di regole diverse che anche qui in regione possono emergere. Per questo vi chiedo un'attenzione rispetto all'ordine del giorno 25.950 che abbiamo depositato su questo tema e a tutti quegli emendamenti che recuperano il contenuto della risoluzione che tutti qui abbiamo sostenuto e attorno alla quale abbiamo lavorato in un gruppo di lavoro all'interno della commissione ottava e quinta. Primo il tema dei consorzi forestali ma non solo, chiediamo di ripristinare quelle risorse, io mi auguro che a quella risoluzione come avevo detto in dichiarazione seguono i fatti. Il nostro voto favorevole era stato condizionato ad alcune cose, una fra queste era ripristinare i fondi per non far morire i consorzi forestali. Anche qui come sul diritto allo studio si tratta di priorità che possono essere affrontate a partire da oggi, da adesso, perché dietro a ognuna di quegli euro che chiediamo negli emendamenti ci stanno persone che lavorano, che possono studiare, che possono contribuire a rendere migliore e più grande quella regione che spesso decantiamo nei nostri interventi. Per cui vi chiedo di ragionarci e vi ringrazio. Grazie. Grazie.